La sedicesima edizione del Festival Internazionale del Nuovo Circo Funambolica, prodotto da lente manifestazioni pescaresi e curato dal suo ideatore Raffaele Deriti, si inizia con il tutto esaurito. Fino a domenica sera al porto turistico di Pescara, repliche di Kairos, del teatro Nelle Foglie, compagnia toscana con artisti provenienti da tutta Europa. Poi i prossimi appuntamenti, da domenica 5 luglio al teatro D'Annunzio, tra i quali l'attesissimo Gran Galà di Ucirc, sabato e domenica 8 e 9 luglio, artisti da cinque continenti per una rassegna imperdibile per grandi e piccini, Raffaele Deriti, direttore artistico Funambolica. Il segreto è dare alle persone che vengono ogni anno la sorpresa. È l'unica forma di spettacolo in cui non ci sono delle vedette famose come nel canto, nella musica o nel teatro. La gente viene, scarta un regalo senza sapere quello che c'è dentro e incredibilmente è il sold out della città di Pescara. Nessun altro spettacolo fa così tanto pubblico. Questo primo ciclo che si conclude sotto il tendone del teatro Nelle Foglie domenica prossima ha già totalizzato più di mille persone con repliche dove non riusciamo ad aprire il botteghino la sera. Non è solo un terzo dell'edizione di quest'anno di Funambolica. Infatti poi riprenderemo il 5 luglio al Teatro d'Annunzio. Come sempre abbiamo un'esclusiva mondiale. Arriverà una grande compagnia acrobatica della Francia. E poi il 8 e 9 luglio, per tutti gli appassionati ormai che ci seguono da 16 anni, il Gran Galà du Cirque, che è la raccolta annuale di tutti i più grandi vincitori da tutte le parti del mondo dei talent show e dei festival di circo, il festival di Monte Carlo. In questo momento in cui il mondo cerca molto faticosamente di unire le nazioni, il circo Funambolica e Pescara riescono a fare l'ONU dello spettacolo. Quindi avremo artisti russi, ucrani, americani da tutte le parti del mondo. Marta Finazzi, teatro Nelle Foglie, parla del successo avuto dallo spettacolo tra curiosità ed entusiasmo del pubblico. Questo tempo dilatato che abbiamo vissuto in questi due anni, dove ognuno ha avuto tempo di affrontare quello che magari aveva nascosto dentro di sé da tanto tempo. E quindi i propri desideri, i propri sogni, ma allo stesso modo i propri incubi e le proprie paure. Quindi forse ognuno si sente un po' riconosciuto in quello che noi portiamo in scena.